pochi vaccini anti covid a disposizione e di conseguenza in Puglia entro il primo trimestre riusciremo a stento a vaccinare gli ultraottantenni oltre a quelli della prima fase a lanciare l'allarme e l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco a febbraio infatti secondo il calendario delle consegne in Puglia arriveranno 186.970 dosi insufficienti pure a vaccinare tutti gli over 80 che in Puglia sono oltre 200.000 non solo in questo momento ci sono a disposizione meno di 7.000 dosi utili solo a proseguire nei richiami prima della successiva distribuzione che dovrebbe avvenire la settimana prossima intanto la curva epidemiologica in Puglia resta stabile con leggere oscillazioni ma i contagi continuano a essere elevati oggi l'indice di positività è sceso al 9,6% rispetto al 10,1% di ieri alto il numero di decessi ben 46 in una giornata nuova impennata in provincia di Brindisi dove si registrano 104 contagi contro i 59 del giorno precedente 10.793 test effettuati di cui 1.044 sono risultati positivi ossia il 9,6% 46 decessi registrati nella regione due dei quali a Brindisi la situazione dei casi per provincia Brindisi 104 Lecce 83 Taranto 297 Bari 352 Foggia 123 BAT 80. Continua ad aumentare il numero dei positivi a Ceglie Messapica dove secondo l'ultima comunicazione del sindaco Angelo Palmisano sono diventati 116 positivi di cui esattamente la metà 58 sono bambini e ragazzi sotto i 15 anni nel pomeriggio si è provveduto a sanificare le aule della scuola materna San Pio in previsione della riapertura di lunedì prossimo e intanto situazione stabile a Torre Santa Susanna dove questa sera il sindaco Michele Saccomanno ci ha fatto sapere che durante i suoi giri con la polizia locale sta notando più ordine nelle strade e negli esercizi commerciali. Due i decessi all'ospedale Perrino di Brindisi entrambi nel reparto di rianimazione pazienti di 65 e 75 anni la situazione dei ricoveri 43 al Perrino di cui 18 in malattie infettive 17 in pneumologia e 8 in rianimazione 29 a Ostuni 14 medicina interna e 15 in pneumologia 9 i post covid 3 a Mesagne e 6 a Ceglie Messapica. Dopo circa due mesi di attività come centro dedicato ai pazienti che hanno superato la fase acuta di malattia e in attesa del tampone negativo è stato chiuso il post covid di Cisternino nella Casa della Salute. Sono stati 47 i pazienti accolti in questi due mesi. La Casa della Salute a meno che non ci siano altre situazioni emergenziali potrà finalmente riaprire come ospedale di comunità. Pronto il nuovo centro vaccinale è allestito nell'area del parcheggio interno all'ospedale Perrino. La struttura fornita dalla protezione civile regionale è costituita da moduli prefabbricati con una superficie totale di circa 220 metri quadri. Il centro è dotato di una sala per l'accettazione, quattro ambulatori vaccinali, una sala d'attesa post vaccinazione, un'area protetta per la preparazione delle dosi del vaccino nonché servizi idonei sia per gli utenti che per gli operatori. E la fase 2 della campagna vaccinale in Puglia si svolgerà anche nei palazzetti dello sport e nei centri per anziani. L'ASL di Brindisi ha individuato alcune strutture dopo il centro commerciale Conforama di Fasano. Ha optato per nuovi punti vaccinali covid nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica per la parte ovest della provincia, nel palazzetto polivalente di Tuturano per la parte a sud e nei centri anziani di Brindisi per la parte est. Tutti gli spazi saranno concessi a titolo gratuito. Fa sapere il consigliere regionale del PD Fabiano Amati nel darne notizie.